Davide Zoggia, quanto è difficile portare avanti le ragioni del no dentro il PD? Ma in realtà non è complicato più di tanto. Chiaramente noi sappiamo che il partito ha espresso un'opinione legittima, che per il sì, però ci sono tantissimi militanti, iscritti, che la pensano in maniera diversa. E quindi sui temi costituzionali io penso che sia giusto portare avanti le proprie idee e quindi diciamo che non andiamo a occupare spazi che sono spazi tipici del partito, perché comunque dopo il 4 ci dovrebbe essere il 5 di dicembre, quindi si continua. Però siamo molto determinati a fermare le ragioni per cui questa riforma, assieme alla legge elettorale, per noi proprio non funziona. Molte dicono potete farlo prima? Il cambio di legge elettorale? Poteva far prima Renzi, questo sì. Noi abbiamo votato la riforma costituzionale esclusivamente per disciplina di partito, con la speranza e anche l'augurio che Renzi avrebbe cambiato la legge elettorale. Questo non lo ha fatto, aveva un anno e mezzo di tempo. Quando noi non abbiamo votato l'Italicum eravamo isolati. Poi a distanza di un anno e mezzo, autorevoli esponenti della società civile, società politica, economica, ne cito uno per tutti, il presidente merito napolitano, hanno detto che l'Italicum andava cambiato. Ora, se tu mi vuoi cambiare l'Italicum dopo averlo approvato, con la fiducia, con le dimissioni del capogruppo, con l'allontanamento di dieci componenti della Commissione di Affari Costituzionali, mi devi dare un segno che lo vuoi cambiare davvero. Se invece mi fai un foglietto, per quanto vergato da firme autorevoli, non voglio discutere che quelle cinque firme non siano autorevoli, però è un foglietto. Un pizzino diremmo. Esatto, voi direste che è un pizzino. E soltanto la vittoria del no obbligherà tutti a ragionare sull'Italicum. Se vince il sì, io penso che le uniche modifiche saranno quelle imposte della Corte Costituzionali. Se invece vince il no, si prefigura un salto nel buio, la cosa che si dice a Renzi soprattutto. Dobbiamo aver paura di lui. No, ma questa è una minaccia sbagliata, prima di tutto perché la fa il Presidente del Consiglio. E il Presidente del Consiglio dovrebbe sempre rassicurare il Paese. E in secondo luogo perché dovesse vincere il no, non succederà assolutamente nulla, se non il fatto che verrà bocciata una riforma costituzionale che gli italiani ritengono non adeguata al Paese. Insomma, dobbiamo tenere separate le due cose. Il Governo può continuare tranquillamente l'azione di Governo, magari migliorandola su alcuni aspetti. Renzi ha sbagliato, secondo me, a personalizzare troppo questa sfida. E adesso è evidente che lui ha qualche difficoltà a tornare indietro, però le cose vanno tenute separate. Poi nel partito si aprirà una discussione. Ma ci sarà ancora il PD dopo questo referendum? Perché ancora la lista dicono che comunque vanno le cose. Saranno spartiacque per il centrosinistra? Ma insomma, sta alla maturità di tutti. Secondo me... Potrete ancora stare insieme. Non ci sono tante alternative a sinistra, al Partito Democratico. Tu hai il centrodestra che ha bisogno di, come dire, trovare nuovamente un'aggregazione, un leader. Hai un movimento che è quello di 5 Stelle, che alla prova del governo sta dando qualche segno di difficoltà, mi riferisco in modo particolare a Roma, però continua a essere comunque un movimento dove inevitabilmente moltissimi guardano, diciamo, con interesse. La sinistra, il centrosinistra che sta governando, ha l'obbligo di, come dire, fare cose, secondo me, più di sinistra. Io non ho votato il Jobac, non ho votato la Buona Scuola. Renzi sta dicendo in queste giornate che effettivamente non sono state proprio delle riforme così perfette e io penso che la sinistra debba trovare il gusto di essere nuovamente sinistra, insomma.